Sono circa 300.000 i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il ferragosto in agriturismo all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta. E quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni di Terra Nostra, rispetto allo scorso anno si registra una sostanziale tenuta. A far scegliere l'agriturismo rispetto alle altre forme di ristorazione è certamente, sottolinea la Coldiretti, l'opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all'aria aperta, avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti. Programmi ricreativi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking, ma anche attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici. Per scegliere l'agriturismo il 40% degli italiani si fida del passaparola, mentre il 47% si rivolge a internet.